Martedì 18 luglio alle 21 torna un appuntamento tanto atteso perché divertente e piacevole da vedere ma anche da vivere. Sono ancora tante le frazioni che vogliono ogni anno partecipare a giochi senza frontiere. Si respira un grande entusiasmo intorno a questa manifestazione e diciamo che l'impegno che ci siamo prefissi è quello di regalare un sorriso ai cittadini terramani dopo i noti problemi che sono accaduti ritrovarsi, essere coesi in una serata di festa penso che possa essere un obiettivo sebbene minimo ma comunque importante. Sarà una serata all'insegna del divertimento, della gioia, della festa dove avremo anche la possibilità di apprezzare la comicità di Fulvio Fuina che torna a Teramo in quanto lui ormai è residente in Toscana da tanti anni quindi apposta per questi obiettivi un pochettino anche vuole essere vicino alla città e ci sarà sicuramente anche lui. Sono tante le frazioni appunto che stanno aderendo e abbiamo appunto rinviato la scadenza delle iscrizioni a venerdì sera perché insomma abbiamo numerose richieste che stanno arrivando quindi sicuramente vivremo dei momenti belli e di spensieratezza. Teramo avrà ancora un'occasione per vivere serate divertenti? Sì, abbiamo detto che ci sarebbero stati gli eventi anche a luglio, li stiamo facendo, ce ne saranno altri che saranno presentati a breve e stamattina abbiamo presentato appunto giochi senza frontiere con quartiere e frazioni, quest'anno è partito un po' in ritardo l'organizzazione perché purtroppo non, voi sapete insomma che ci sono stati 15 giorni di raggiunta, insomma non era ancora in possibilità di lavorare e quindi siamo riusciti a organizzarlo e grazie, voglio sottolinearlo, al contributo fondamentale del BIM e all'organizzazione che quest'anno verrà affidata al CSI. Quindi il Comune per l'ennesimo anno rinnova questa manifestazione che ormai dura da diversi anni. Giochi senza frontiere è una manifestazione che ormai rientra nel cartellone degli eventi estivi della città di Teramo e il BIM ha voluto sostenerla anche quest'anno. Anche quest'anno sì, una grande classica mi permetto di dire, tra l'altro mi permetto di aggiungere un momento forse di riconciliazione fra le frazioni e il centro cittadino che in questa fase è particolarmente importante.